Salve a tutti i friends dal vostro supercorri Staccoci qua ragazzi Torna la domanda della settimana Ovvero Quelle domande che ricevo più spesso Sotto i commenti dei video Sui miei social Quindi le cose più ricorrenti Io poi ci realizzo un video Perché non ho tempo di rispondere a tutti Preferisco farle in un video Così tutti quanti vi potete ricondurre a questo E' chiaro che stasera ragazzi Mi raccomando su questo canale Verso le 9 e mezza, 9 e 40 Faremo la nostra consuetà live del mercoledì Di Formula 1 Live News Parleremo delle news Che usciranno dopo tramite video Poi ne parleremo e le approfondiremo E poi parleremo di tutto l'ambito Formula 1 Di quello che volete parlare voi Quindi prima di partire come al solito vi dico Iscrivetevi a questo Al secondo canale Supercorriste Gamer Dove trovate oggi il recappone degli ottavi di finale Della Coppa del Mondo Più la mia previsione sui quarti di finale C'è il canale degli shorts Dove ogni giorno metto gli shorts di un minuto In tutti gli ambiti Trovate oggi Formula 1 Videogiochi, quello che vi pare E trovate anche il calcio C'è il canale della palestra Correre a disposito personal trainer Sto infittendo i video pure là Quindi trovate di tutto Consigli per l'allenamento Per stare in forma Per tutto E c'è il canale ufficiale Supercorriste 84 di Telegram Per le news in anteprime Sondaggio con cui vi chiedo Cosa volete vedere sui miei canali C'è il canale delle offerte Amazon Supercorriste offerte Amazon Ragazzi è una settimana dove Amazon Sta facendo le offerte che non ha fatto al Black Friday Vi dico una cosa su tutto Ve la ridico Il Thrustmaster T150 A 159 euro Era quasi un anno che non tornava a questo prezzo C'è Fruit Lab e c'è il canale Viola Allora partiamo subito Molti di voi mi avete chiesto Supercorriste Qual è il team principal E in Formula 1 E in giro Comunque che tu hai individuato Possa essere il miglior sostituto di Binotto Non quello che ci andrà Quello che a me piacerebbe di più E io vi dico Non è una domanda facile sicuramente E' chiaro che un team principal Per me deve avere delle caratteristiche ben definite Ovvero deve avere leadership Deve essere una persona di carisma Una persona che riesce a incutere Sia emozioni positive che emozioni negative Ai propri dipendenti A coloro che ha sotto Senza troppi giri di parole Da questo punto di vista ragazzi Vi dico Uno che fa questo molto bene E' Gunter Steiner Gunter Steiner è il classico team principal Che davanti alle telecamere Spesso ha il sorriso Però Non so immaginare Quello che accade Quando entra ai box E le cose non sono andate Come dice lui Gunter Steiner è un team principal Che si è fatto le ossa Nei rally Non dimentichiamoci A inizio anni 2000 Gunter Steiner gestiva La Ford Martini Racing Nel WRC E aveva due piloti Come Sainz e McCree Che se le erano date Di santa ragione Già a metà anni 90 Lui è riuscito a gestirla In maniera molto buona Certamente Il problema di Steiner E' anche la sua troppa Non dico sincerità La sua irruenza Nel giudicare In maniera troppo Lapidare i piloti Abbiamo visto L'ha fatto con Schumacher L'ha fatto con Giovinazzi Quindi è uno che Appena accade qualcosa Ci mette una pietra sopra Schumacher Non è buono Per la Formula 1 Giovinazzi Non è abile Ed è una vergogna Perché Anche scelte Come prendere Hulkenberg In Formula 1 Quest'anno E' vergognosa Cioè era meglio tenere Schumi O almeno dare una possibilità A Giovinazzi Lui non l'ha fatto E a questo punto E' chiaro Che Steiner Dimostra Di avere Troppo Un carattere fumantino Probabilmente Per stare in Ferrari Un team Un team che ha bisogno Di stabilità E di tranquillità Steiner Da quel punto di vista Probabilmente Non sarebbe Il team principal Il migliore C'è Toto Wolf Molti mi hanno detto Corrava però Toto Wolf Allora A prescindere Che non verrà mai Perché Toto Wolf Ragazzi E' uno degli azionisti Maggioritari Di Mercedes In Formula 1 Quindi Parte del team E' il suo Toto Wolf Mi piace Perché Chiaramente Ha vinto troppo Rispetto a quello Che è il suo Valore reale Perché ha iniziato A fare il team principal Nel 2013 Ha stravinto tutto Non è così Avrebbe dovuto fare La gavetta Come tanti altri E non l'ha fatta Ma va bene Di lui mi piace Il fatto che Comunque A livello di peso politico Lui è riuscito A portare Mercedes Sopra Ferrari Sopra altri team Che prima avevano Un peso politico Davvero incredibile Toto Wolf Lo abbiamo visto Quest'anno L'emblema Del peso politico Di Wolf E di Mercedes E' stato quest'anno Quando è riuscito A far cambiare Il regolamento In corsa Alla FIA Lui aveva capito Che Mercedes Non avrebbe vinto nulla Quest'anno E sarebbe stata Una debacle Per il team Che ha vinto Ottomondiali Lui ha capito Che facendo Una protesta Facendo forza Contro la FIA Facendo pressioni forti Avrebbe potuto Far cambiare Il regolamento E ci è riuscito Dal Canada Si è cambiato regole Si è alzate le vetture Con la nuova direttiva E lui è riuscito A recuperare prestazioni Andarsi a vincere La gara in Brasile Quindi Vedete A livello Di peso politico Quando c'avete Una persona Un team principal Quei controcavoli Riesce anche A sovvertire Situazioni Che sembrerebbero Insovvertibili In poche parole Toto Wolf È questo A me per quello piace Piace anche Per il fatto Che comunque Uno abbastanza duro Non come Steiner Ma riesce A farsi rispettare Nel team Riesce anche A rinvertire Le cose Nel senso Mercedes era Partita malissimo Durante l'anno Ma proprio Nelle prime fasi Feci anche un video Dove senti una sua intervista Che disse No ma se continua così Blocchiamo lo sviluppo E ci dedichiamo All'anno prossimo Poi però invece Si è messo sotto Ha messo sotto il team Ha fatto pressioni Sulla FIA Ha ottenuto La modifica Ed è riuscito comunque A fare una parte finale Di stagione Incredibile Modifiche FIA Che aveva ottenuto Anche la Red Bull Ne parleremo Quindi All'atto pratico Ragazzi Toto Wolf Sarebbe un'ottima figura Ma non arriverà mai C'è Chris Horner Chris Horner È una figura Molto più tranquilla Rispetto ai Wolf Agli Steiner Però che sotto sotto Si fa rispettare Chris Horner È il team principal Tranquillo Che però In maniera velata E alle volte Molto pagata Riesce a dare Un input A tutti Non a caso Nell'epopea Chris Horner Il Red Bull Ha vinto tutto Parlavamo di Toto Wolf Quest'anno che ha fatto Cambiare il regolamento E quello che ha fatto Chris Horner Nel 2013 Se ci pensiamo Perché Il discorso di cambiare Le gomme Nel 2013 Dopo il Canada Di tornare alla costituzione 2012 Che era una costituzione Di gomme Che permetteva Al Red Bull Di andare meglio Fu proprio Una pressione Di Red Bull E anche Di Tra Marco E tra Horner Alla Fia Perché Loro Si arrabbiarono Per il test Segreto Di Mercedes Se trovate il video Sul mio canale L'abbiamo appena fatto E sostanzialmente Secondo me Hanno detto Alla Fia Ora O Si torna indietro Con le gomme Così Mercedes Non avrà il vantaggio Di aver fatto 1000 km Di test Con queste nuove gomme Ma se no Facciamo il putiferio Ottennero di tornare Alle gomme vecchie E Red Bull Evidentemente Aveva una vettura Molto continua Rispetto a quella Del 2012 Che riuscì A sfruttarle meglio Ferrari Mercedes Altri team Avevano puntato Tutto sulle gomme Il 2013 E si trovarono In difficoltà Quindi vedete Horner È un team principal Più tranquillo Però si fa sentire Nel momento giusto Ed ha l'esperienza Adeguata Per poter guidare La Ferrari Però abbiamo visto Che lo stesso Horner Ragazzi Ha declinato L'invito Purtroppo Altri team principal Ragazzi Io non li valuto Perché non mi fanno Impazzire Sono molto sincero Da Siedel Zac Brown Quelli che ci stanno In McLaren Non mi fanno impazzire Parliamo così Al di fuori Della Formula 1 Ci sono altre figure Che mi piacerebbero Per esempio Una su tutte Spicca Quella La figura Di Adamo Ex team principal Hyundai Nel WRC Adamo Venne preso Dalla Hyundai Una Hyundai Che aveva tanto budget Buone prospettive Ma non riusciva mai A ottenere il risultato Arriva Adamo Sceglie i piloti giusti Sceglie un team Di meccanici giusti Di tecnici Riesce A vincere il mondiale costruttore Con la Hyundai Che poi rimane l'unico Perché la Hyundai Vince quel mondiale E poi non vince più Torna a vincere Toyota Adamo se ne va Team principal Dalle caratteristiche Molto rudi Molte hanno detto Che lui è un tipo Molto tosto Che si fa sentire Che si fa rispettare All'interno del team Sarebbe proprio La figura ideale Per Ferrari Perché Quello ha bisogno Ferrari Di un team principal Così D'altronde Sappiamo che il team principal Non deve essere Per fortuna Un esperto di Tecnica Di meccanica Per quello c'è il direttore tecnico Quindi andrebbe bene Anche una figura del genere Sarebbe molto indicato Per Ferrari Però Sembra che anche lui Abbia detto di no Perché Ferrari Ci aveva pensato In ultimo Abbiamo citato Brivio Nelle volte scorse Vi dico Brivio sarebbe una buona figura Però non so A che punto di carisma Potrebbe mettersi in Ferrari L'ultimo che voglio citare È un Diciamo Direttore tecnico Team principal In un certo senso Che è in un'altra categoria Che Non verrebbe mai Perché Sta dominando Nell'altra categoria E non penso Lascerebbe Però Con i fischioni Magari potrebbe essere Anche convinto Ed è Gigi Dalligna Allora Chi non sa la storia Di Gigi Dalligna Lui stava In Superbike Con l'Aprilia Ha fatto vincere tutto All'Aprilia In Superbike L'Aprilia Domina la Superbike Battendo Ducati Suzuki Gli altri team Che dominavano In quel periodo Stravince tutto Con Biaggi Passa in Ducati In MotoGP Ducati lo assume Perché sostanzialmente Pensa che lui Possa essere la figura Adeguata Dall'Igna Abbiamo visto Ragazzi Negli anni Ha portato Ducati A essere una moto Scandalosa Dall'epoca di Valentino Rossi Essere forte A lottarsi mondiale A essere la moto Dominante Adesso Aprilia è la moto Migliore del mondiale Da diversi anni Quindi sarebbe una figura Eccezionale Il problema è Lui dovrebbe abbandonare Un ruolo Dove sta vincendo E sta facendo la storia Dovrebbe abbandonare Un ruolo Dove lui ha competenze Lui ricopre Ruoli Tecnici In Ducati Studia la moto Progetta la moto In Formula 1 Non avrebbe le stesse competenze E magari Verrebbe relegato Al ruolo Di solo team principal Quindi Da quel punto di vista Secondo me Non accetterebbe Ma sarebbe una figura Eccezionale Perché Dall'Igna Anche lui Molto schietto Nelle interviste Molto presente Molto tosto Anche quando si deve Fare sentire Quei piloti Sarebbe il top Ragazzi Nella totalità Però che arriverà Secondo me Frederick Basser Non so se sia un bene Non so se sia un male Uomo comunque di pista Uomo Meno attento Alla tecnica Più attento Alla gestione Del team Uomo che sicuramente A Leclerc Farebbe piacere Il fatto che si sta Temporeggiando Mi fa pensare Che si cerchi In estremi Una soluzione Diversa Però Ragazzi Non lo so Se si troverà Questa soluzione Perché Basser È disponibile Gli altri Boh Potrebbe essere Anche una scelta giusta Non scalda i tifosi Non scalda l'ambiente Scalda solo Leclerc Il resto È molto freddo Vedremo cosa accadrà Speriamo che arrivi Se arrivi a Ser Con altre due figure Importanti Ripeto Quella politica E quella tecnica E fatemi sapere un po' Voi qual è il team principal Che vi piacerebbe avere In Ferrari Ciao ragazzi Oh 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 Grazie a tutti.